E allora dopo la lunga maratona elettorale dell'altro giorno, eccoci al momento dell'analisi, parliamo in questa puntata di a tutto ponente del voto amministrativo di Sanremo, ormai la situazione è molto chiara, lo facciamo con due ospiti, due neoconsiglieri comunali che vi presento subito e che facciamo subito ovviamente a loro i complimenti per questo risultato personale, al mio fianco Simone Baggioli di Forza Italia, benvenuto, Alessandro Il Grande, Sanremo al centro, ricordiamo intanto quanto avete totalizzato, Alessandro Il Grande è stato il più votato di tutto il Consiglio Comunale, 696 preferenze, un record complimenti, complimenti anche a Baggioli che si conferma anche lui in Consiglio Comunale con 351 preferenze. Allora, ricordiamo un attimo il quadro, si andrà ovviamente al ballottaggio, Alberto Bianchieri ha totalizzato il 47,35% delle preferenze, Gianni Berrino il 28,53%, ricordiamo il risultato degli altri candidati a sindaco, Paola Rigoni del Movimento 5 Stelle 10,12%, Francesca Antonelli 5,59%, Davide Oddo 4,65%, Antonio Bissalotti 2,42%, Gianluca Covatta 1,34%. Questi sono i voti per i candidati a sindaco, dopo vedremo anche quelli di lista. Intanto, beh, un primo commento a voi, partiamo dal grande su questo risultato, anche personale, una sfida, una campagna elettorale in un momento storico importante per il Paese e per San Leno. Beh, innanzitutto io ringrazio tutti i miei elettori che mi hanno dato fiducia. Io ho aderito a questo progetto, il progetto di Alberto Bianchieri che ha aggregato persone di appartenenza e politica differente, ma penso soprattutto che i valori che sono stati espressi, sono i principi, i programmi e le persone. Ecco, io ho aderito perché comunque ritengo che non si debbano guardare i simboli di partito, ma bisogna guardare, l'unico simbolo che bisogna guardare è amministrare la città di San Revo. Perché ricordiamo che è una coalizione un po' varia, lei ha un'estrazione di centrodestra e infatti è stato eletto in una delle liste civiche di riferimento del sindaco, un progetto che quindi ha l'obiettivo di amministrare, al di là degli aspetti di colore politico. Questo sì, è importante perché comunque le persone che mi hanno dato fiducia sicuramente non hanno guardato se io ero in un simbolo piuttosto che in un altro, hanno guardato la persona, io ritengo che tutti quelli che da tanti anni mi sostengono conoscono me e hanno fiducia che io possa amministrare. Simone Baggioli, allora Forza Italia, abbiamo detto sicuramente consigliere comunale perché in attesa di questo ballottaggio, in ogni caso lei si è classificato nei primissimi posti della lista, intanto un commento sul risultato. Beh, innanzitutto un caloroso ringraziamento a tutti gli amici e simpatizzanti che mi hanno accompagnato in questa difficile campagna elettorale, complimenti all'amico Alessandro il grande che ha ottenuto un ottimo risultato e è stata veramente una campagna elettorale molto difficile per il nostro partito. Io ritengo che comunque la coerenza vada messa prima di tutto. Io non avrei mai fatto, come l'amico Alessandro, un discorso di correre con persone che non la vedono a livello politico nella mia stessa maniera, sebbene il programma che abbiamo predisposto è la coalizione centrodestra, è un programma molto basato sul rilancio turistico ed economico della città, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto della floricoltura e ci sono molti progetti che mi hanno portato avanti in questa amministrazione che abbiamo appena concluso e che vorremmo proseguire. Ora ci sarà il balottaggio e ci auguriamo di riuscire a vincerlo perché comunque siamo ancora in gara, tutto è aperto, si tira una riga dopo le preferenze e si passa comunque a un discorso più generale su quello che la persona è candidato sindaco al suo programma che avendo vistosi entrambi sicuramente è molto più valido, poi è evidente che è soggettiva il discorso della... Ognuno è un attacco al suo mulino. Però è un po' più realistica diciamo. Vuole rispondere anche perché è stato un po' punzecchiante. Sicuramente se tutti l'avrebbero pensata come Baggioli non avrebbe fatto questo risultato e pertanto meno male che le persone pensano in un modo differente di Baggioli. Io penso innanzitutto che il balottaggio, il nostro candidato sindaco Alberto Biancheri farà un grandissimo risultato, ne sono certo. Noi lavoreremo affinché lui possa dimostrare, al contrario di quello che afferma Baggioli, che un insieme di persone effettivamente con estrazioni politiche differenti portano una sola maglietta e amministrano la città e la devono amministrare soprattutto bene perché negli ultimi anni penso che Sanremo sia stata maltrattata sotto tutti i profili. Pertanto io sono super convinto che il balottaggio è giusto che la parte avversaria creda nella possibilità di vincere ma noi ci impegneremo per far stravincere Alberto Biancheri. Prima di risentire Baggioli sentiamo velocemente Biancheri e Berrino, così poi commentiamo anche quanto hanno detto, li abbiamo intervistati proprio al termine dello spoglio di questo primo turno all'interno dei loro point. Sentiamo. Alberto Biancheri allora si andrà al balottaggio, un balottaggio che lo vedrà avanti di oltre 19 punti percentuali, un bel margine ma come intende lavorare in queste due settimane? Intendo lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, voglio dire girando sul territorio, cercando di andare a ascoltare nuovamente i cittadini e chiedere nuovamente la fiducia. Dunque ormai il modo è questo, siamo soddisfatti indubbiamente di questo 19,5% di differenza e ripaga tutta la coalizione del lungo lavoro fatto e tutto il nostro sforzo. Si aspettava un divario così grande? Onestamente no, io pensavo dal 12 al 14%, non pensavo di arrivare quasi al 20% e perciò sono ancora più contento. Cosa ha colpito secondo lei la cittadinanza? Innanzitutto credo il fatto di essermi fatto conoscere, perché in realtà io vivo a Sanremo, nelle aziende fuori Sanremo, in questi quattro mesi ho lavorato molto, sono stato presente, sono andato in giro, non ho rinunciato a niente, sono stato 4-5 volte a Verezzo, nelle frazioni, in centro, tutto. E questo secondo me ha fatto conoscere un po' di più Alberto Biancheri e forse avrà dato più fiducia alle persone. Farà degli apparentamenti? No, non credo assolutamente di no, non ci ho mai pensato prima, non penso tantomeno adesso. Gianni Berrino, allora alla luce di questi risultati come commentare questa tornata elettorale? Si andrà al ballottaggio e c'è un margine tra lei e il candidato Biancheri? Sì, c'è il margine però c'è il ballottaggio, visto che qualcuno pensava già alla luce dei risultati di ieri all'europea e di avere già vinto, abbiamo dimostrato che non è così perché la tenuta dei due partiti principali che mi appoggiavano in questa tornata elettorale per l'amministrativa è stata ottima, Forza Italia è il primo partito di Sanremo, Fratelli d'Italia è molto alto quindi vuol dire che chi ha voluto indirizzare un voto l'ha indirizzato bene, il ballottaggio vuol dire 0-0, siamo arrivati in finale e ce la giocheremo fino in fondo anche perché non penso che nessuno di quei 20.000 Sanremesi che oggi non hanno votato non voteranno al ballottaggio e quindi sarà bellissima questa ulteriore 13 giorni di campagna elettorale per andare a vedere chi vincerà tra me e Alberto Biancheri, i Sanremesi avranno una scelta, potranno scegliere come sindaco me, potranno scendere come sindaco Biancheri, gli altri ormai sono fuori dai giochi, sarà un testa a testa appassionante a cui spero che i Sanremesi si appassionino. Cercherà qualche apparentamento? Beh, vediamo, vediamo, tutto è utile e nulla è necessario, si vedrà. Qual è il messaggio che vuole portare agli elettori in questi 14 giorni di campagna elettorale? Ma spero che gli elettori in questi 14 giorni di campagna elettorale lasciano un attimo perdere le vicende nazionali che secondo me hanno molto influito su questo risultato elettorale con risultati di partiti molto molto strani, molto molto alti e che per il bene di Sanremo sappiano scegliere guardando i programmi, guardando i candidati che sono stati eletti che potranno far parte della squadra di governo della città, guardando alla fiducia che possono riporre in me o nel candidato Biancheri. Solo questo, ripeto, è un testa a testa, non dico che è un duello perché fortunatamente un duello non è, però è un bel duello elettorale dove mi sento di partire alla pari perché non è che il vantaggio o lo svantaggio che si ha alla fine della prima tornata si ci porta dietro, si parte da zero voti ciascuno e vincerà chi ne prenderà di più. Ecco, due elementi intanto Baggioli, quello della concomitanza con le elezioni europee che può in qualche maniera aver influito e poi insomma andare a parlare con le persone che non hanno votato. Il 63% è stato circa il dato dell'affluenza in calo rispetto al passato anche su questo bisogna fare un'analisi, cosa ne pensi? Beh, innanzitutto mi fa piacere che Alberto Biancheri abbia girato in questa campagna elettorale per i territori a sale mese in considerazione del fatto che in nove anni di amministrazione lui sostanzialmente non si è sentito. A partire dai cinque anni di assessorato alla floricoltura che i risultati hanno dimostrato che Luciflora sia fallita e i quattro anni di consigliere d'opposizione dove sostanzialmente non ha inciso più di tanto nelle scelte dell'amministrazione. Detto questo, quello che ho letto stamattina anche sui giornali mi fa riflettere sotto il punto di vista delle varie nomine a assessori che si verificheranno in questi periodi, ci sono già i primi punzecchiamenti, le prime liti, le prime screzze che si vengono a creare anche perché i papabili sono molti. Io immagino che Alessandro Grande sicuramente mi irà avere un turismo, o la presidenza del consiglio o comunque avere il vice sindaco anche perché visto il suo grande risultato, il discorso di scegliere collegialmente il proprio luogo, il proprio posto mi pare un po' eccessivo come affermazione, anche perché il primo della classe è quello che viene sempre premiato. Poi mi vengono in mente al Monomeo, Giuseppe Di Meco, Andrea Gordera, al quale è stato promesso il vice sindaco, Cutellè, che è la compagna di grande, che ha fatto un ottimo risultato, Asseretto, Pirelli, Cassini, Faraldi, Nocita, Menozzi, Sindoni, Robaldo, un assessore esterno che verrà richiamato a bilancio. Quindi accontentare tutti coloro che hanno fatto il salto della quaglia, sinceramente sarà molto difficile e si stanno già creando i primi attriti e i primi contrasti. Concordo pienamente con quanto ha detto Gianni Berlino sul discorso di andare a ricercare quelli che sono indecisi. Ricordiamo che a Sanremo il 17 mila non hanno votato, quindi la capacità sarà quella di andare a ricercare queste persone che sono schifate dalla politica, che non vedono un futuro e che bisogna spiegargli che invece il futuro cede davanti agli occhi. Altro discorso, così sentendo… Le europee hanno pesato? Diciamo che le europee hanno pesato in maniera negativa nei confronti del mio partito, per esempio Forza Italia, che ha avuto non un ottimo risultato e a livello comunale abbiamo fatto il primo partito, quindi è stato secondo me un ottimo successo. C'è da rivedere un po', ma questo è un discorso che si farà successivamente su una riorganizzazione per avere un po' più contatto con la gente, ma quello che voglio evidenziare è anche le varie tematiche di attualità, tipo inceneritori, termovalorizzatori, ad esempio personaggi di spicco politico come possono essere Menozze e Ballestra che vogliono il termovalorizzatore, la Cassini non vuole il termovalorizzatore e l'assessore Grande che oggi ha scritto, ha fatto una dichiarazione sui giornali, lo chiamo assessore perché ormai sono abituato dall'epoca, io con Alessandro Grande ho sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia e di rispetto deciproco, quindi sono contento che lui abbia fatto questo ottimo risultato, ma il concetto è un altro, Alessandro Grande parla di incrementare le forze dell'ordine in luoghi della città che sono in parte condivido pienamente, non condivido l'integrazione raziale nella pigna come preventivata e paventata dalla Selle e dalla Cassini, quindi mi chiedo in una sorta di tavolo di giunta che a mio avviso diventerà un ring per ogni scelta politica importante per i beni della città, come si faranno a unificare i pensieri di Alessandro, della Cassini, di Limeco, di Menozzi, Compiereri eccetera. Baggioli ha fatto un minestrone, ne ha dette di tutti, poi alla fine il concetto non è che c'è tanto da dire, innanzitutto non ha bisogno sicuramente di un avvocato difensore, Alberto Biancheri che la ritengo invece una persona equilibrata, una persona capace e soprattutto ha dimostrato che comunque quando ha fatto 5 anni l'assessore era un suo settore, pertanto ritengo invece che abbia fatto un bel lavoro come ha fatto bene anche il Presidente del Golf di Sanremo e questo secondo me ci tengo a precisarlo perché sì che dobbiamo andare al ballottaggio, ma non si deve screditare così le persone, caro Simone, che io con te ti rispetto e sai la stima che ho. Poi mi sembra che abbia Simone, veda lui dei giornali, questi screzzi, io onestamente non ci siamo ancora visti, non ci siamo ancora parlati, oggi l'obiettivo principale è quello assolutamente di correre per il ballottaggio, ci sono due candidati, Simone correrà per il suo candidato sindaco, io correrò per Alberto Biancheri e poi sono sicuramente i cittadini di Sanremo che daranno una valutazione. Per quanto riguarda i programmi, penso che i programmi sono stati già condivisi tra le liste civiche e i partiti che hanno aderito al progetto Biancheri, pertanto io non trovo tutte queste riscontri di Simone che alla fine ha fatto una cozzaglia di problemi, ma alla fine quello che conta è avere sicuramente una maggioranza, una maggioranza forte e una giunta che possa lavorare con tranquillità e serenità per il bene della città. Voi come lavorerete in questi 14 giorni di campagna elettorale? Abbiamo sentito dalla loro parte di andare a ricercare chi non ha votato, insomma? Ma io prendo proprio spunto dal candidato sindaco Berrino che ha detto noi non dobbiamo guardare i partiti a livello nazionale, ha detto una cosa giusta, noi per amministrare la città di Sanremo dobbiamo assolutamente guardare le persone che siano capaci ad amministrare e ci dobbiamo dimenticare proprio dei simboli dei partiti, l'ha detto lui. Io condivido questa sua idea, la faccio mia e rilancio dicendo proprio che per il ballottaggio lasciamo perdere le ideologie di partito ma votiamo le persone e soprattutto votiamo i candidati sindaci che in questo periodo di campagna elettorale si sono fatti conoscere. Secondo lei come mai c'è stata una stensione così forte? Io ho riscontrato, girando perché la campagna elettorale effettivamente ti fa conoscere tante persone, ho riscontrato che la gente è schifata dalla politica, io ho trovato persone che mi hanno detto vado a votare perché sei tu Alessandro, se no non andrei e questo è il vero problema, la gente non ha più fiducia, c'è poca gente che fa politica veramente per passione, io l'ho dimostrato, penso che ho lasciato una poltrona che tanti altri non avrebbero fatto nel 2011 per una questione di ideali e di coerenza per me stesso e nei confronti delle persone che mi avevano dato la fiducia e allora questo deve essere tenuto proprio in considerazione, la gente in questo momento non ha fiducia della politica. Cosa ne pensa Baggioli? Ci sono anche tante vicende nazionali che distaccano. Non siamo stati avvantaggiati dalle ultime vicende di cronaca a livello nazionale, condivido con Alessandro Grande il fatto che la gente abbia votato la persona in questa campagna elettorale e si sia un po' più allontanata dai simboli dei partiti, questo è condivisibile sotto tutti gli aspetti. Però c'è anche da dire che chi ha un'idea di centrodestra non può andare d'accordo con uno che ha l'idea di centrosinistra, è la cozzaglia, non l'ho fatta io esternando il mio pensiero e dicendo quello che ognuno di noi è libero di dire, ma la cozzaglia è questo insieme di persone di estrema sinistra, di estrema destra, di centro, moderate e quant'altro che sono state riunite in questa coalizione guidata da Bianchieri che tutto è forché del PD per riuscire a vincere nuovamente copiando un progetto che è quello di Imperia, che perdonatemi io stamattina sono venuto qua in Imperia in moto, voglio dire non è un ottimo risultato ultimamente la città di Imperia, è sporca, è tenuta male, quindi non c'è organizzazione, l'amministrazione manca e poi se andiamo a riprendere quello che è la vecchia amministrazione di Bola che sostanzialmente è quella di Bianchieri in una fotocopia, secondo me è fatta anche un pompeggio e alla fine voglio dire 47 consigli comunali è andato in bianco per mancanza di numero legale a dimostrazione del fatto che anche in quel caso vi era comunque gente di centrodestra, con pensieri di centrodestra e con pensieri di centrosinistra, al primo consiglio comunale si è alzato un assessore e si è andato a casa, quindi voglio dire se vogliamo dare la città nuovamente a una coalizione guidata in questa maniera con un insieme di personaggi che la pensano tutti in maniera differente e fra un anno ritornare al voto mi sembra una cosa quasi assurda. Il Presidente ha già dato la vittoria a Bianchieri e però fra un anno si cade già. Io non ho dato nessuna vittoria a Bianchieri, io sto solo considerando il fatto che a mio avviso i cittadini sanemesi che per il 60% hanno una visione di centrodestra e dovranno riflettere bene e dovremmo mettere al corrente di quello che si verrebbe a creare come una situazione politica di questo genere, nel caso in cui invece la coalizione di Berlino vinca, molti volti nuovi della politica sono stati inseriti nelle liste proprio per dare una rispolverata, una novità a quello che è il partito di centrodestra. E puoi parlare di tutto ma non di novità. Novità, non mi sembra che ci siano neanche dei PD, però ci sono molti candidati nuovi che hanno messo per prima volta, l'esempio Lampante e la Elisa Ballestra di 22 anni che ha ottenuto un numero elevatissimo di voti, una studentessa universitaria che ha ottime idee, con lei molti altri nuovi volti alla politica hanno messo la loro faccia, si sono candidato, hanno ottenuto magari non i risultati di Alessandro Grande che è un campione di incassi elettorali, però comunque hanno messo la faccia per tentare di dare una svolta a quello che è la politica amministrativa della città e per tentare di fare il meglio in questo momento di grave crisi economica che ricordiamo il fatto di stabilità incide sui comuni, quindi non è che possiamo promettere di andare a ricostruire Casa Serena come è stato fatto da Biancheri in un incontro che hanno fatto appoggio, quindi si fa quello che si può, purtroppo in cassa abbiamo 40 milioni di Euro, non li possiamo spendere per questa spada di Damocle che tutti gli enti locali hanno sulla propria schiena, abbiamo una pista dell'atletica pagata 6 milioni e 400 mila Euro, preventivata 2 milioni e 4 che è inutilizzata, quando le strade al tempo di Boria erano praticamente distrutte, quindi alla fine io avrei preferito che la mia amministrazione, che al tempo non era in politica, che la mia amministrazione del tempo fosse intervenuta su strade, muri e altre questioni più importanti che non fanno una pista d'atletica inutile, costosissima, che viene utilizzata adesso per l'atterraggio dei vigili del fuoco. Speriamo sul patto di stabilità che i nuovi parlamentari europei, perché si dice che anche dall'Europa possa arrivare un aiuto in tal senso, mettono mano a questo problema perché ne parlano tutti ma rimane sempre tale. Una replica dal grande? Ma io penso che la gente non interessa quello che dice Baggioli, nel senso che comunque... 6 milioni e 4 lo abbiamo pagati noi, eh? No, secondo me la gente vuole sicuramente delle persone che vadano a amministrare, lo facciano con una certa competenza e capacità. Dimmi che sono incompetente. Simone, fammi finire di parlare, perché se vuoi fare una trasmissione da solo te la lascio fare tra... No, 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 ma non sono incompetente, scusami, perdonami, non sono incompetente, non mi dico incompetente. No, io ti dico che comunque amministrare una città tu l'hai fatto per 5 anni, i tuoi elettori secondo me ti hanno premiato, io invece ho fatto una scelta, quella di non condividere l'amministrazione zoccarato, tu parlavi di aver fatto la pista, la pista adesso serve per far atterrare l'elicottero dei vigili del fuoco, io ti vorrei chiedere cosa è stato fatto in 5 anni, comunque nell'amministrazione che tu hai, che rappresenti oggi. Io sono invece convinto che bisogna invece fare, se vincerà giustamente il nostro candidato Alberto Biancheri, bisognerà lasciare lo spazio di lavorare, è condivisibile che ci possano essere delle vedute differenti, ma tra persone come si deve, ci si mette lì e si ricorda che soprattutto quando si amministra una città si deve fare il bene della città. Io non entro nel merito delle persone, innanzitutto voglio adesso aspettare il ballottaggio, poi ci metteremo a lavorare e poi come sempre in tutte le competizioni elettorali sono gli elettori, sono i cittadini che danno il giudizio a chi va a ministrare, al sindaco e pertanto bisognerà aspettare. Adesso vediamo un servizio su una novità politica molto importante a Sanremo, ovvero la prima volta del Movimento 5 Stelle, che comunque vada il ballottaggio e entrerà nell'assise comunale con due propri esponenti, tra cui Paola Rigoni che era candidata alla poltrona di sindaco che noi abbiamo intervistato. Sentiamo. Ci troviamo nel point del Movimento 5 Stelle di Sanremo, Paola Rigoni, allora come possiamo commentare questa tornata elettorale, l'esperienza, la campagna elettorale e poi il risultato ottenuto? Beh direi che è stato tutto splendido, il gruppo è stato magnifico, ce n'è una parte qua, la nostra campagna elettorale è costata solo 1.484 euro che ci siamo divisi in 19 persone, le 19 persone che sono in lista, ci siamo divertiti molto, è stato bellissimo, quindi siamo diventati anche più uniti, coesi, abbiamo lavorato a un programma molto bello e adesso siamo pronti ad entrare, quindi il risultato è fantastico, perché per noi ottenere il 10% partendo da zero è veramente fantastico. Siamo pronti? Cos'è questo? È un aprescatole, è stato utilizzato dai ragazzi in Parlamento, lo utilizzeremo anche noi qui da noi in Comune, siamo pronti. Cosa volete andare a vedere in Comune? Tutto, tutto. Faremo una grande opposizione, non faremo sconti a nessuno e poi siamo anche pronti, perché secondo noi con questo ballottaggio ci saranno degli equilibri che si andranno così a rompere, quindi molto probabilmente, io non glielo auguro a chi vincerà, però non durerà molto questo consiglio e quindi noi siamo pronti. Adesso incominciamo ad entrare, impariamo bene come funziona la macchina comunale e poi ci saremo anche alla prossima volta. Quale sarà la vostra posizione al ballottaggio? Nessuna alleanza, opposizione sempre tutta la vita, almeno adesso, quindi nessuna alleanza, non ci chiamate, non ci telefonate. C'è stata un po' di differenza tra le europee e le amministrative del voto 5 Stelle, come mai, come lo avete motivato? Beh, innanzitutto Sanremo ha retto benissimo, perché a confronto a quello nazionale che era al 41 e qualcosa, al 30%, noi qui il 25,5%. Diciamo che il Movimento 5 Stelle non ha perso, come fanno vedere, perché comunque siamo così al 21, al 22%, quindi abbiamo perso tre punti. In realtà tutto quello che ha guadagnato il PD l'ha preso dal PDL, quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che sono d'accordo. Ecco, insomma, questa era una novità importante politica per Sanremo, l'ingresso del Movimento 5 Stelle, Baggioli come vede questa novità? Beh, sono passati dall'europea il 25%, del Comunale 10%, ciò penso che sia abbastanza, cioè ci sia poco da dire, voglio dire, è stata una debacle del Movimento 5 Stelle molto sentita a livello comunale, il traino delle europee ce l'hanno avuto grazie comunque al loro leader che nelle piazze urlava contro tutti, però alla fine io in questo programma dell'Arigoni sinceramente non ho trovato nulla di sostanziale che veramente vada a risolvere qualsiasi tipo di problema, si parla solo di cacciare la vecchia politica, può dire il comune, ma qua non siamo mica delle brutte persone, noi siamo tutte persone che facciamo politica per passione, almeno parlo personalmente, lo faccio per passione e non ho bisogno di vivere grazie alla politica, come tantomeno Alessandro Grande, perché abbiamo le nostre attività, però lo facciamo solo per uno spirito di bene per la città, bene per la città che fino a ieri con Alessandro Grande l'ha condiviso, oggi purtroppo Alessandro Grande ha preso un'altra strada, mi dispiace per lui, non è stato coerente a livello politico, è la verità. Il grande invece come vede questo ingresso del 5 Stelle che sarà comunque presente nel Consiglio Comunale con due esponenti? Io penso, sono d'accordo con la prima parte proprio di Simone, a livello nazionale hanno avuto un risultato, a livello comunale ne hanno avuto un altro, per quanto riguarda che comunque avranno una rappresentazione all'interno del comune, io sono sempre favorevole, comunque un'amministrazione che va a amministrare la città deve avere anche una parte critica affinché sia costruttiva, ritengo pertanto che la loro presenza verrà valutata come gli altri partiti che entreranno a far parte del Consiglio Comunale. Vorrei ancora ribadere, perché sembra che ne faccia una questione di coerenza, caro Simone, mi sembra che i voti parlano chiaro e quando magari nella prossima campagna elettorale ti invito in Piazza Colombo a fare magari un confronto e magari sarà la volta che ti riuscirò a portare un po' più di consenso. Allora, verso la chiusura, Baggioli, parliamo di questo ballottaggio. Ringrazio per l'offerta proposta da Alessandro Grande, ma se si ricorda bene l'abbiamo già fatta insieme, abbiamo fatto la campagna elettorale ad Alessio Sasso del PD all'insieme, quindi parlavamo tutte e due dal comienzo in Piazza. però vedo che sei sempre indietro, io voglio aiutarti a prendere più voti così la coerenza ti ringrazio dell'aiuto, ti ringrazio dell'aiuto, perché mi sembra che sei molto abile a parlare di lingua, ma di fatto non riscontro le tue idee, sei venuto a parlare di coerenza, di... Sono sempre in Forza Italia, sono sempre in Forza Italia, nonostante questo calo mostruoso rispetto al 2009, però scusami Alessandro perché io non ti ho interrotto, c'è stato un calo di percentuali molto importante, siamo passati dal 36% del PDL nel 2009 a oggi con Forza Italia 18,8%, è stato molto drammatico questa discesa, uno dei pochi che ha incrementato il numero dei voti e delle preferenze, sono stato io con il 62% in più, quindi io sono molto contento del risultato ottenuto, rimango sempre della mia stessa idea a livello politico, io mi auguro che comunque domenica 8 ci sia un'inversione di tendenze, sono convinto che tale ci sarà, anche perché comunque il programma che adesso metteremo nuovamente sotto gli occhi di tutte le persone parla chiaro e i risultati li avremo domenica notte. Stava dicendo il grande prima? No, volevo solo ricordare, ma con simpatia a Simone, che praticamente lui, lo ricordo specialmente ai dipendenti comunali, che lui è stato uno dei fautori di Sprecopoli e penso che i dipendenti comunali se lo ricorderanno molto bene, poi com'è andato a finire? Siamo andati su tutte le emittenti nazionali, abbiamo infangato il nome di Sanremo, perché che cosa? Questo secondo me, quando si parla di coerenza si deve pensare anche a queste cose, al bene della città, al bene dei dipendenti comunali e non andare a dare lezioni di lingua alle persone, se poi uno predica bene e rozzo la mano. Certo, c'eri anche tu in giunta, quindi anche tu hai condiviso la scelta. Allora, non apriamo altre parentesi, se no non riusciamo a chiudere sempre. A Baggioli gli manca l'esperienza, spiego perché, perché lui non sa che quella pratica non è venuta in giunta, è una pratica che ha fatto lui come consigliere comunale e pertanto si deve assumere le sue responsabilità e la gente, i dipendenti comunali lo sanno e anche la polizia municipale. Allora, fatemi chiudere, Baggioli, in chiusura, questo ballottaggio, partite con questo 19 e mezzo di svantaggio, ma come ha detto Berrino partite dallo 0 a 0. Partiamo dallo 0 a 0, si rivedrà tutto, questo è evidente, noi faremo 10 giorni di campagna elettorale intensissima a spiegare alle persone qual è la realtà dei fatti e quale sarebbe lo scherzetto arlecchino che la lista, la coalizione bianchieri potrebbe dare alla città di Sanremo, lo spiegheremo in maniere approfondite e poi chiedo ai cittadini di Sanremo, fatevi un giro in piedi e così capite com'è la situazione, basta passare in moto o in macchina, niente di più. Abbiamo citato prima i risultati, li ribadiamo, Forza Italia 18,79%, Fratelli d'Italia 8,48%, Sanremo, 1,46%. In caso di vittoria bisognerà tener conto di questi numeri all'interno della possibile giunta vostra? Io immagino che comunque come in tutte le coalizioni del mondo, il candidato sindaco che rappresenta una coalizione e vince ovviamente deve tenere in considerazione quelle che sono le preferenze di ogni singolo consigliere candidato in comune. Stessa domanda per Alessandro Il Grande, questi 10 giorni di campagna elettorale? Partite con un vantaggio ma... Partiamo con un vantaggio di 20 punti, bisognerà lavorare con serietà, cercare di far capire alla gente che è importante che venga amministrata a Sanremo da una persona capace e competente come Alberto Bianchieri, faremo non solo di più di quello che è stato fatto per prendere le preferenze. Ci metteremo tutti a correre perché quando c'è un ballottaggio non bisogna non bisogna assolutamente fermarsi. Ricordiamo anche le percentuali della vostra coalizione, il Partito Democratico 1599, Sanremo al centro che è la sua lista, il suo partito chiamiamolo così 1502, noi per Sanremo l'altra lista civica 893, Sanremo insieme Ecologia e Libertà 455, il Cittadino 312. Stessa domanda che ho fatto a Baggioli in caso di vittoria? Sicuramente il sindaco sentirà tutte le forze politiche, è una sua competenza, io non vado mai a guardare in casa degli altri, esprimo comunque che ci devono essere dei criteri e penso che il nostro futuro sindaco sicuramente li adotterà. Bene, grazie ai nostri ospiti anche per la simpatia e la passione che hanno messo in questo dibattito, buon lavoro per questa campagna elettorale e comunque vada, visto che sarete in ogni caso presenti nell'amministrazione, buon lavoro per il futuro di Sanremo. Grazie, buonasera. Grazie a tutti voi per l'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti.